ciao a tutti oggi prepareremo il fruttolo il tempo di preparazione della ricetta è di un minuto circa gli ingredienti sono frutta madura che possono essere fragole banane kiwi mele frutta piacere formaggio spalmabile zucchero e succo di limone andiamo il via la ricetta noi faremo la ricetta con la variante alle fragole andiamo mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare 5 secondi a velocità 10 adesso aggiungiamo le fragole succo del limone andiamo a far frullare per 20 secondi a velocità 10 riuniamo sul fondo del boccale adesso versiamo il formaggio spalmabile e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 3 il fruttolo è pronto andiamo a trasferire in dei vasetti fruttolo grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti